primo novembre 1956 muore pietro badoglio protagonista della storia italiana della prima metà del novecento sulla figura del generale si sono confrontate tesi storiografiche diverse e talvolta opposte militare capace capo del governo dopo la caduta di mussolini il 25 luglio 1943 egli dopo l'annuncio dell'armistizio abbandona l'otto settembre roma lasciando senza direttive le forze armate e l'intera popolazione alla merced delle rappresaglie tedesche primo novembre un zero un 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 Grazie a tutti.